Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video siamo con Pizzetta Foti e con Big Banana Girl si è una nuova arrivata bene allora vorrei dire che io e Pizzetta Foti ci abbiamo già giocato tra l'altro io che sono nerdato e Big Banana Girl non ci ha mai giocato e come la metti con questo? no questo qui me l'ha regalato un tizio a caso proprio un player e come la metti con questo? bene iniziamo proprio bene il video con uno che è disconnesso l'altra che non parla ma per chi è abbastanza gli alberi? la legna non parla nulla io per sprecare la legna ho fatto quel trono un trono mezzo tolto e tutto bugato raga io vado a vendere ma perché io vedo un tiglia sempre che vuoi? io vado un secondo a vendere raga non so tu che vuoi che cavolo fai tu uno che si è pure disconnesso che cosa dici in tua difesa? la pietra è da dove si prende da sotto vero? si ok no 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 ferma ferma vieni qua la pietra si può prendere da un'altra parte vedi quel portale gigante? vai in quel portale gigante ah oddio forse un'altra ci ho giocato me lo ricordo però fammi fare un piccone no 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 vabbè pure il piccone di legno cioè vabbè qualsiasi piccone Andrea ma la spada di ferro non la potersi fare ma io non ce l'ho ma tu se mi dai magari i 50 di ferro se la potrei fare volentieri? no 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 forse prima quando ci giocavamo avevo 50 di ferro ma non so come metti da 30 e a me io non ce l'ho no 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 sono andato per capire tu che cos'hai adesso? quanti di ferro hai? 30 tre posso posso tre? trenta? trenta? ok allora vieni da me tre 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 o a a allora vieni da me un secondo aiuto ok se vieni da me ti posso dare i restanti ragà ma ci incontriamo all'isola è al posto di fare ragà ma ma io sono andato in un posto o b e mi suicido eh 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 vieni all'isola adesso che cavolo mi manca mezz'ora per teletransportarmi da una parte all'altra mamma mia sì manco Mario Bros definitivamente la la stessa rete di Winnie the Pooh Winnie the Pooh ci sei anche tu definitivamente la presa di Winnie the Pooh la presa di Winnie the Pooh la presa di Winnie the Pooh Andrea Andrea così Andrea Andrea quanto tu hai Andrea allora fammi vedere Sito 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 allora 20 di ferro ok ce li ho ce li ho esatti tieni ah ecco ecco un'altra cosa Andrea ma possiamo chiamare Banana Girl Banana che si fa prima eh bene tieni sì certo allora questo coso ma che cosa serve questo coso che non l'ho non l'ho capito molto no basta mi c'è tanto papilla se la prendo il carbonelettro test allora Andre se vuoi continuare ad annacchiare sei pure no allora a me mi mancano pochissimi livelli per andare in una zona successiva se magari facciamo le cose un po' tutte insieme che Banana Banana non si sa neanche dove sia magari Banana torni all'isola devi cliccare home girata a destra eh non sono da telefono eh c'è anche da computer oh guarda qui lo c'è vabbè comunque adesso sto un attimo ho sbloccato gli spinaci mamma mia gli spinaci non vedo l'ora proprio di mangiarle che le cornea proprio mamma mia allora oh Banana dai devo prendere un po' di pietra oh no ma che si è piena della pietra ci stanno sei chili qui nell'isola se no sto tanto per dirti ma perché da dove li sta prendendo ma da dove li sta prendendo scusami ricetta crafting oddio sono livello 2 livello 2 in mondo nazionale oddio ragazzi è livello 2 mi rendete conto ragazzi sono avanti buonissimo comunque ragazzi lasciate like lasciate like no non si lascia stasit pubblicizzo un canale che si chiama Manu 2010 pubblicizzato il tuo il canale tu non mica mio tutto attaccato iscrivetevi a questo canale perché stiamo per arrivare tornando a casa ma aspettate un bellissimo una bellissima sorpresa ho 52 lingotti vai no aspetta li graffi io ho capito allora cosa devo non si deve craftare lì vieni seguimi vai bambino crafta lì lembill se sbagli cosa ti ammazzo che cos'è lembill lembill è una cosa quadrata dove ci sbatti le cose sopra ah è questa qui l'incudie si ma direi l'inglese molto avanzata le due dammela posizionala in una parte dove è decente se la posizioni viene a genova guarda io ti picchio per fortuna tua che si può rompere per fortuna tua che si può rompere allora me la metto qua ragazzi ti riesco a pensare e pensa da solo va a che cosa stai pensando viva tante cose e sganciami tutto no allora qui lembill che cosa ci possiamo fare spada in ferro ciao ci vediamo domani allora andrei allora andrei mi devi fare una spada di ferro no cioè costa 40 di ferro quindi allora ti hai elaborato canna cos'è questo allora frammento di acqua acqua marina ma bella 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 libro di incantesimi ah questo è quello che ho io dove sta dove sta libro di incantesimi però costa un botto 2000 lingotti di acciaio per fare una canna stampo di fabbrica che cos'è questa roba uh questo è opal ppkx ma è una delle cose più complicate allora io punto la spada in ferro per essere un po' su base no ho solito una domanda ma che cosa sta facendo banana cioè io ora sto guardando sto dicendo sotto che sta sto facendo una base segreta eh sì sì allora tu ti chiedi che essere intelligente eh io sono io sono molto segreta infatti vedete questa base è molto segreta grazie infatti andrei perché voi non l'avete trovata pesco nel vuoto andrei ma perché non hai la testa sei tu bugato io la vedo la mia testa ti la ghicchia ma giusto un po' eh ma non c'è neanche se l'ha non c'è neanche non c'è neanche non c'è neanche no dai io so continuando a cadere forse qualcosa ti la ghicchia giusto un pochino lol andrei non mi servire te l'ho rega ma perché andrei a fermo che sta camminando ti ho fatto un po' mi sa che ti lagga ma un pochino ma un po' tanto un po' troppo perché sto vedendo banana girl che lei sta costruendo si muove bene ma tu ma tu ti vedo sul ponte che sta tipo camminando stai facendo un passo ma non ti sei tutto un bagaglio ti sei fermato risetto ok questa è la mia base bella andrei ma perché ti vedo fermo io perché la di io è vero perché io vedo che tu ti muovi ecco 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 vedi cioè io vedo troppo no perché io vedo banana girl che si muove ma come si fa scusa e vabbè niente ma come cavolo si è salita no ma perché vedo un piccone volante no raga io sto vedendo cose che non dovrei vedere io ti uccido posso prendermi questo regno visto che questo è inutile si si faccio prima sono uscito e rientro perché secondo me sta lagando a me ma se dopo rivedo Andrea Andrea esce ma a me non lagga se no mi mi scatterebbe tutta la registrazione allora che c'è lei allora vedi che ti lagga ma io ho 2000 monete ma da quando mi compro subito il semele di zucca no no mi dico poco che ha una bellissima sorpresa continuate con il video allora signore deficientino aggiustati il wifi va Andrea non hai il wifi tu non hai capito che mi dice non hai i permessi necessari per partecipare a questa esperienza cioè mi stai dicendo che qualcuno ti ha bannato ma non stai facendo qualcosa di strano no non funziona è perché qualcuno ti ha bannato ma per cosa cosa stai facendo che cacchio ne so io ero andato senti provo a uscire da roblox e rientrare la cosa bella è che è proprio no è proprio uscito dalla chiamata alleluia ma perché sei uscito lasciate starla di nuovo ti funziona ti funziona sì o no sono disperato wait scusate per i problemini tecnici abbiamo cambiato mappa perché mi avevano tipo bannato non ci capivamo nulla cioè almeno credo vero andrea esatto sì purtroppo era tutto rosso era tutto rosso comunque vi chiedo per questo nuovo allora allora primo banana entra entra mappa vi chiedo comunque per questo nuovo video per questo nuovo video vi chiedo per questo nuovo video comunque minimo 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 5 like comunque iscrivetevi iscrivetevi mettere mi fai dietro sotto mentre mi prende le gambe aspettate che tolgo il volume quando lui muore muore capito quindi la probabilità di morire è molto alta ma poi questa mappa è un po' baggata per le spade perché ma ti ho preso otto volte ti ho tolto un quarto questa cosa non ha proprio senso ma ragazzi ho visto banana girl che era andata gioco avanti mi aveva buggerato la vita no sii ok ma banana girl allora tu hai capito cosa si deve fare dovete prendere la mia flag dovete mirare con la con la